per questo video ho deciso di partire subito con l'Utergible Whisper che sarebbe quasi la torta di audible quindi tu, tu, tu che stai guardando questo video non ti devi preoccuparti perché è giusto non capisci quello che dico in testa quindi adesso faccio un paio di cuffie e gli occhi di occhi di occhi di occhi di occhi di occhi di occhi porto subito 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 così non perdiamo tempo così non perdiamo tempo quest'mpongli quest'mpongli tutto questo come buon termitito buon appunto termitico 5 yuki appunto termitico ok 5 yuki 5 yuki 5 yuki 5 yuki 5 yuki 5 yuki Up 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 Perfecto Perfecto Magari questo è attenzione per questo video in generale mi piace anche un pochino di pasta per provare a vedere così se ci piace, come ti piace il video oppure no non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace... adesso vediamo un'altra cosa guarda, appunto è terminato, sono chiamato i quotidiani fantastiche perchè è sempre un barbone, ma tutto il staff guarda, guarda, guarda appunto... guarda appunto il mio asa immagino così idrink Grazie Sì questo video per te non sta piacendo questo video per te non sta piacendo perché lo trovo molto diverso molto molto diverso il mio corpo lo sono però potrebbe essere un video rivoluzionario magari a voi vi siete tantissimi e lo posso provare a fare più di più però potremmo un attimo che ho risolto che ho risolto sulle tre e due di notte qualcuno di voi qualcuno di voi è ancora meglio perché dove siete andato dove siete andato dove siete andato all'altra persona di notte all'altra persona di notte è arrivato al momento di rientrare a dormire con altrimenti poi domani sarete molto stacchie no comunque ho tutto questo con un'altra cosa ho comprato da un'altra di unico potremmo dire soluzione ma davvero carino davvero carino davvero carino davvero carino che c'è il picco di chelata il video che mi fa fare con una foto che trovate su Instagram lo so però il soggetto non è possibile farci nulla come potete fare il cuore non è facile perchè la barca però c'è il soggetto che fa un colore solino perchè questo tipo mi inspirava di solino mi inspirava di solino e di solino e oggi sono la natura rossa con la parola di mela perchè ho pensato per non usare l'esercito per la testa candela che poi magari la prego pure perchè si va poco della soluzione uso come cavolo per gestire il video quella che sto usando e che ho notato normalmente perchè ogni volta cambia la candela magari un po' più carino magari lo preferite un po' di più per la città per la città ho un pezzo ho due tipi di led sempre impostati su questo meraviglioso colore questo giurino qua che mi parla dal punto perchè mi cambia l'altro colore del video quindi perfetto perfetto la punta del medito guarda di nuovo la punta del medito del medito che è come che è comunque che è sempre che è che è adesso che mi ha muovato guarda 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 un lavoro di fiato in poche parole ultimo 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 dimarci tra l'altro taggi perché 10 minuti restiamo qua per altri 10 minuti da più o meno sì perché tanto non mi fa ruvire troppo lungo assolutamente proporre di alzarmi le 3 minuti per registrare il video se è arrivato che Google te sono altri 3 giorni davanti 3 giorni davanti perché ci sono le vacanze di carina nel caso questo ti senti molto male nel caso questo ti senti molto male nel caso questo ti senti molto male lo posso tranquillare di ritardo oppure posso portarmi avanti per registrare un altro video non lo so vedremo 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 x3 tic ok Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc qua sopra, ma quella pelosa, così potevo anche fare così, toccare la copertura pelosa, però non ce l'ho, quindi vabbè nulla, adesso è un peggio natura, come state? come state? come state? ma per molte perchè per molte, per molte, per molte, per molte se volete capire quello che ho detto adesso, potrete scrivere qui sotto nei commenti, commentate, sentite e fatemi sapere se questo video vi sta piacendo, perchè lo trovo molto, molto, molto strano e diverso dal solito, un po' troppo fast, per i miei casi soliti proprio in questo periodo sto, mi stanno piacendo che io fanno ASMR, soprattutto oggi ho videopass ASMR, da nu ASMR io la adoro troppo, cioè, aiutemi la adoro troppo, 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 troppo dove praticamente, in questi, tipo, 20-30 minuti, la cosa che c'è da non mi guardo proprio bene ha fatto dei mini rollplay, tipo da 2 minuti, ha fatto dei mini rollplay da, sì, 2-3 minuti su vari argomenti, quindi tipo medicini, beauty, eccetera, eccetera ed è fatto benissimo, c'è anche il cambio tra l'uno e l'altro, è piacendo tantissimo quindi buccello, me la provo, me lo sorpito, dicendo di volta con il video, perchè veramente spettacolare veramente spettacolare, veramente spettacolare, veramente spettacolare, veramente spettacolare scusate se vi guardo poco continuiamo, 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 continuiamo in un momento voglio mettere le mie condizioni con la palma, perchè, qua, so che quando passa schifo, posso, 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 posso è zullo 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 con questa cosa mi ricorda di contare poi questo microfono perchè ormai è bella, già c'era la parte di dopo, 3-4 anni, però funziona ancora benissimo e in questo periodo mi sembra c'era molto, 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 molto di più rispetto al tank mi ricordo c'era una volta, tipo c'era un periodo con cui per almeno 4 minuti di seguito ho usato il tasca ma le preferisco molto 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 ripropropiti lo trovo molto più comprate, molto più caracolite, caracolite e cattura che è molto 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 bene la voce quindi a poco lo farò per finito questo video che tanto starò qua come minimo ancora in 5 minuti 5 minuti, 5 minuti, 5 minuti, 5 minuti, 5 minuti quindi tutto il tempo dopo magari intorno ai 20-25 attacco, 22 stacco e poi diventa troppo lungo il video quindi cos'altro c'è già per un po', cos'altro c'è già adoro però sempre guardate, 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 guardate un poco ti guardate un po' pienso perché come dico sempre in un video con la riflessione della telecamera quindi riesco a capire un pochino come strada non ricordate un pochino come strada però non ho usato solo magari da un pochino come stridia ma sarà già spiegato sono non è tanto che adesso credi che poi torno a dormire torno a dormire, torno a dormire, torno a dormire qui senza problemi senza problemi, senza problemi, senza problemi e poi scrive il cervello di mezzo ok ok è giusto proprio un po' di manzard poco a l'experto perché è giusto qui ne va leggere più è giusto è giusto è giusto è giusto è giusto sono bello che guardo sempre, non so veramente, che ho completato ma se è perchè io poche volte guardo un video o almeno un video che dovrebbe lavorare dei video che ho più corto, ma quello che potrebbe capitare che riguarda il rumore della sua felettica, non piace cioè io trovo che i video siano veramente belli però lo so, non ho molto successo qua su youtube evidentemente però comunque il mio stile è piantantissimo cioè la penso di essere abbastanza brava a fare con me proprio non so ne deciderlo vedete voi che dovrete dirmi se vi piace uno stile tipo di bello oppure no non so se faccio tanto suono però comunque siamo arrivati a 20 minuti di registrazione quindi facciamo ancora un altro minutino questa ecco perchè non puoi carmiglia troppo lungo anzi quindi ecco ho qualche altro gioco intellettivo dai guarda 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 sempre la punta del mio naso tu 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 guarda sempre la punta del mio naso mentre un pochino di carezze un pochino di carezze così laterali così laterali 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 e non wilde è tanto difficile da dire che le cинAD gültere sempre apprezzat sempre apprezzat sempre apprezzat sempre apprezzat Sì ma mia ti manca veramente per questi piedi cioè per cercare di andare ancora a ruotarlo cioè per mantenere la cucina e la cucina appunto ti manca un'altra cosa e ti manca un'altra cosa e ti manca un'altra cosa e non so veramente quali sarà la cosa tra le altre cose perché non saranno avanti per poco siamo arrivati a 22 minuti quindi perché le iniziamo a dirvi un po' di saluti per cui so che per magari nonostante le salle per non riuscire ma vi amo direi un po' di notte perché il video è finito questo video è stato concreto qui come sempre come sempre come sempre come sempre come sempre ecco perché dico cosa ti lascerò mi piace qua sotto e di commentare 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 in modo che tutti tutti voi possiate entrare a far parte della della community e poi come sempre ultimo ultimo cosa che faccio dopo il video vi metterò sempre qua sopra per vedere alcuni video precedenti che se non l'avete visto dovete andare a vederlo poi qui qua 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 e adesso per andare a vedere qua qui facciamo ancora qualche seconda proprio qualche seconda qui buonanotte 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 dobbiamo salutarla quindi buonanotte 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 sono... dormire come dormire perchè bisogna dormire bisogna dormire nel tutto c'è Grazie.